Ciao a tutti che sono arrivato in questo episodio di Sherlock Holmes io ho provato ad aspettare anche ma qua il corso salta non è uscito quindi mi sono tuttora arrangerei diversamente e l'ordine giusto è stinging street quindi più o meno c'era arrivato, solo che ho sbagliato ho sbagliato il principio, dovevo mettere il numero civico della via ma il numero del molo che non mi ricordo South Bank ah no ha finito banchina 321 South Bank oh ti odio messaggio scritto con succo di cipolla ha questo effetto un succo di cipolla che figata mio amore Watson nel giardino e in questa ruota le piccole sono missing che non avrebbe mai lasciato i loro posti cosa pensi? ah devo... ah manca la pistola la pala questo ce l'ho io, questo ce l'ho io e il cappello bene cosa? pistola, pala questo allora si, ok ok no, mai sentito non 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 autofancia è non ma non 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 di uccidere un uccidio nelle mani di qualcuno così. L'ho lasciato per andare a la adresa che era scritto in Invisibili, credi? Sicuramente, Watson. E per quanto riguarda la scuola, potrei dire che sarà usato per ricordare. Adesso dovrai stoppare di lasciarmi con domande semplici? Si, hai trovato tutto l'assassino? Si, hai trovato tutto l'assassino. Questo mi fa sentire meglio. Grazie, ragazzi. Siamo facendo una visita a quella addresa misteriosa, Watson. Ma prima cosa, dovremmo andare a Lampeth. Lampeth? Ma cosa faremo là? Prendere un amico vecchio. Il sarà un giro di aiuto a trovare il nostro amico. Bene. E chi è questo amico? Un amico che ai aiutato con il caso di cui ti chiamavano romantico, Il Signo dei Voi. The fuck? Ah beh. Comunque... Come avete visto, questo episodio è partito da quella... Quella spezzare con la carta... Aspetta, parlo dopo. Uh-huh. Che bel cagnollino. È il mio. Un amico. 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 Spontanile. Esatto. Un amico. tipo non ci credo sono il cane che figata ok allora prima di iniziare la caccia volevo dirvi come avete visto questo episodio è partito senza uno spezzone perchè lo scorso episodio sono stato tipo 20 minuti a cercare di mettere in ordine quella frase lo so e quindi l'ho eliminato io caricherò direttamente questo semplicemente ho messo il pezzo di carta su su sullo stendino la con con le mollette e l'ho riscaldato e mi è uscita la scritta con le parole e li dovevo mettere in ordine allora toby andiamo wuff wuff toby, you have found his trail aaaa aspetta la come ci arriviamo? aaaa come faccio ad arrivare lì? ecco il ripiccolo cane malmenato oh Non c'è nulla di interesse qui E' lì? No, lì è solo una cosa che possono usare Oddio che figata sono un cane Ok, però possiamo andare per di qua ora Mi sta seguendo? Oddio che lento Nye nye, è il mio doggie, è il mio doggie Eh, Sherlock, va bene Nye nye, nye 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 Ok, vai Oh, io doggie doggie Ah, ok Quindi Torniamo indietro Qui non c'è stato Ah, devo, con la zampa Vai, dai la zampata Grandissimo Stima totale per la zampata Ah, il lever is stuck Vai doggie doggie Vabbè, cosa ha fatto? Ah, no E non vuole dirmi che ha fatto ciò che penso io? No, è impossibile Leve è bloccata Qui ha deciso di andare dall'altra parte Oh, cos'è? Grease Ok, sappiamo che il grasso si dice Grease Non lo sapevo Pensavo ci dissesse fatte in tutti i casi Lol Ok Del grasso Ah, del grasso Bene, andiamo ad usare il grasso sulla leva Sant'ora Scusa, ma ti levi? Sono io il cane, levati Eh che palle Sei ti padroni Sempre Vai usalo sulla leva what the fuck no wait ok non vorrei fare ciò che credo io oh shit no è sbagliato è inutile non ce la fai fare un salto così grande torna indietro devo arrivare lì no? allora andiamo qui ok andiamo qui fighissimo si sentono da dire gli artigli in questo senso cosa? vuoi andare qui? poi da qui ok quella qui andiamo a destra a destra vediamo se riusciamo ad andare lì no allora dobbiamo fare il giro gg che lento dio vai 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 è da notare che shelloc lo sta guardando tranquillamente mentre lui salta probabilmente sta tipo giocando lo sta carando di strisce non sta cercando niente gli sta giocando sui pali perché lui può ok andiamo lì e qui grande toby grande toby corri 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 piccolo fapper ok non ci credo non non stai per farlo no questo è il cane più intelligente che lo abbia mai visto è semplicemente il cane di shelloc holmes è semplicemente lui è il cane di shelloc holmes buona dog toby buona dog toby buona dog toby ai n ho e me buona perchè non ansi ma oddio che figata vuoi un primo piano su sto cane oddio che figo vai scopri i malvimenti più o meno si vai annusalo tutto aha e ora ci incontriamo con watson guarda ora lanciamo il cane ah beh so già cosa farà se già cosa fare mannaggia a lui cioè ma quanto intelligente sono vedere io cioè ti immagini un cane che davvero sa fare queste cose c'è altro che c'è molto più intelligente di molti esseri umani tra cui me tra l'altro grande toby grande toby ok deve andare aprire la porta dall'interno corri piccolo toby oh ci sono delle tracce bene good guy toby no questo è un cane genio tipo non è un detective è un cane genio bau 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 guarda come scodinzolo bau 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 mi mordo la coda mi mordo la coda mi mordo la coda bau 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 b rompi ghiaccio e da miseria rompi ghiaccio che cosa possiamo forzarla con cosa non ho qualcosa per forzarla no vabbè cerchiamo qualcosa qui andiamo di sopra bau bau madafaka ah te mi segui eh piccola caffone di qua dove si va ? sempre giù ? lol ah lol bau 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 grande toby Cosa le strisce di lardo alle gambe le zampe ok bau 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 ,eh,ehh,babao,ehh,eh,si,ah,babao,ehh,ehh,devo andare a toccare il culo a qualche altro cane,eh,eh,sù dalle tre niente,pleez ah non vuol direi sta robe ah,babao Babau ah aha,easy peasy lemus squeezy Più o meno Aha So What we can do Is just use This Oh genius ma si vedono le palle a sto toby Oddio Nya 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 nyaw Baboh madafakà Grande toby Okay Broom brum 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 Ah no pensavo di doverti aprire la porta sorry E non viene anche te Sherlock Mi da fare adesso che sono un povero calen difeso Ah no ok che genio sto cane, sapersi nei principi della fisica Ecco come inquinare l'ambiente, bravo insegniamo ai ragazzi queste cose, no va bene complimenti Ok Odora! Odora piccola secuccia, corri! Corri piccola secuccia Vao vao, vao vao, guarda che, guarda che modello, guarda Dove cazzo si sta andando? Dove? Ehi Sta camminando da solo Eh devi dire fino a qua, dillo Ok Ok Too easy Too easy, bitches Toby, non si riuscite Ehm 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 Perché complicassi la vita? Toby, non si riuscite Ehm Che palle Sherlock Se io sono un cane detective, lascia fare a me, no? Ah, un altro modo per entrare Mi sa che ci toccherà fare il giro Oh, traccia Woof, woof Woof, woof Woof, woof Carrozza And so what? Questa carrozza Beh, carrozza, oddio, questo, la cazzo di gru Ok Ok Di qua non possiamo andare Qua è bloccato, molto pene, molto pene Ehm Qua Siamo bloccati? Siamo bloccati Siamo bloccati Non capiteva da troppo tempo Ah, qui c'è un gancio Potrei lanciarmi dentro A me sembra una buona alternativa Carriage tracks Ah, questa tra, questa Scusa, ma cosa devo fare io? Oh, si Vedo un secuccio Secuccio lo tutto I sacchi Oh, genius Guardate la scena via tutto Oddio, cos'è, sabbia? No, spero sia tipo Pangrattato Ehm No, invece era sabbia Perché qua fanno il vetro Mamma mia, ma che cazzo Anyway, per questo episodio è tutto Io vi ringrazio per la visione Serviamo il cosetto Ciao, turo turo tutti Bow, bow Ma che mi piace? No, ok, basta Grazie a tutti